... Serena ha il colpo di tacco facile quest'anno, ma Zenga trova in Baresi un sostituto eccellente. Rivediamo l'azione. Platini è un romantico e bacia il pallone che poi, come vedremo, lo aiuterà. Zenga infatti gli para il penalty e si propone per il Guinness dei primati. Una volta tanto anche Platini si fa neutralizzare il calcio di rigore, ma il pallone si ricorda del bacio ed il rimbalzo è favorevole al francese che non è tipo da fallire due volte.